I parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle chiedono lo scioglimento del Consiglio regionale. Lo fanno con una interrogazione al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Affari Regionali, per diffidare la Regione Calabria, accusata di non rispettare i propri obblighi statutari. Abbiamo chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scioglimento del Consiglio regionale calabrese. Sappiamo che è una proposta forte ma in questo momento il Consiglio regionale calabrese sta violando il suo statuto, sta violando le leggi regionali sull'iniziativa di legge popolare. Questa è una grave violazione di legge che può essere sanata discutendo la proposta di legge sul taglio dei costi della politica regionale che abbiamo depositato oltre un anno e mezzo fa, oppure il Consiglio regionale va sciolto. Nel corso di una conferenza stampa i parlamentari Alessandro Melicchio, Paolo Parentela e Bianca Laura Granato hanno spiegato che non è stata ancora calendarizzata la proposta di legge di iniziativa popolare per il taglio dei privilegi della politica, con la quale si punta ad ottenere un risparmio di 3 milioni di euro all'anno riducendo del 40% gli stipendi e le spese dei politici regionali e dei gruppi consigliari. Il Consiglio regionale calabrese è il più costoso d'Italia, spende quanto spende la regione Lombardia con il doppio dei consiglieri. Nel mirino dei parlamentari 5 Stelle i compensi dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta, le spese per le strutture e i collaboratori, ma anche gli stipendi dei vertici della burocrazia regionale. Noi abbiamo rilevato dei costi elevatissimi anche per quanto concerne gli stipendi dei direttori e dei dirigenti. Esistono due normative regionali che andrebbero abrogate all'istante, proprio per rispettare quello che è in questo momento una situazione drammatica dal punto di vista economico della Calabria. Ci sono queste due norme, una del 1996 e l'altra del 2010, che andrebbero abrogate, che permettono attualmente il raddoppio dello stipendio per quanto concerne i direttori generali e anche i dirigenti. Quindi abbiamo dirigenti strapagati e è una cosa che viene solamente in Calabria.